ok nintendari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i buonissimi video ma ora toccate matteo ok ci siamo e andiamo a giocare a luigi's mansion 2 per nintendo 3ds dato l'ho voluto portale dato che voi volevate tantissimi vi piace tanto questo luigi's mansion detto ma dai facciamo una mini serie di luigi's mansion e andiamo vuoto avanti guardate quanti pipistrulli è una luna tipo c però all'incontrario vedete com'è dovrebbe vedersi adesso luigi dietro c'è un fantasma stai attento questo è lo scienziato che le pala la sua spira polvere che aspira questi fantasmi sembrano dei fantasmi gravi non è com'è che dice lui a ecco perché tipo timide no non è un tipo timide boh boh ah ecco perché beh qualcuno lo saprà se ha visto già il video ci sta giocando di ancora è un bellissimo gioco e mi piaceva volevo iniziale con voi perché ho visto che a tanti è piaciuto Luigi's Mansion che esce 3 per Nintendo Switch e ora siamo qua il 2 per vedere com'è Luigi in casa e sta dormendo ma ora la televisione non toccare non toccare nooo ah non l'ha risicchiato meno male saltiamo se si può non si può saltare per cui andiamo oh questo gioco è stato anche nella categoria è nella categoria New Select per cui sono i migliori che ci sono eh Luigi saltiamo perché sennò c'è da stare qua un mezz'ora solo per questo non 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 Ok, questa dovrebbe essere la mappa di dove siamo O dove dobbiamo andare Oh, il vecchio DS, il primo DS che hanno fatto Una torta Lui non fa niente, fa far tutto agli altri, ecco Le mini particelle che compongono, lui ci vedete i colori, blu, rosso, verde Ok, e ora iniziamo, andiamo Si è spaventato anche per la porta E ora iniziamo Ci sarà un'altra entrata, vedremo di qua Niente, un'altra entrata Vediamo se di qua c'è un'altra entrata Ah no, però mi dice di qua Ah ecco sì Ah no, mi dice di qua c'è un'altra entrata Oh no, non è nulla Ciao delle monete Presa Sono concentrato e adesso possiamo entrare Metti la chiave E apri la porta Sì 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 Oh ma dai è finito il video ci vediamo alla prossima Sempre e soltanto nintendari Ciao Sì 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 Sì